Il giudice del Tribunale di Roveretto, Carlo Ancona, afferma che la lottizzazione dell'ex Argentina rappresenta un danno enorme per la comunità arcense sia per la dimensione dell'intervento edilizio sia soprattutto per l'interesse paesaggistico dei luoghi interessati. Questo è il tema principale nelle motivazioni della decisione giudiziaria assunta lo scorso 31 maggio che ha condannato per lottizzazione Roberto e Gianluca Miorelli, rispettivamente legale rappresentante e amministratore delegato della Cosmi S.p.A., i tre progettisti della stessa ditta e la dirigente dell'area tecnica comunale Bianca Maria Simoncelli, a un mese di reclusione, 31 mila euro di ammenda e al risarcimento della parte civile di 50 mila euro. Sempre in base al giudizio del Tribunale sono stati assolti il vice sindaco Stefano Bresciani, la funzionare dell'ufficio edilizia Tiziana Mancabelli e i membri della commissione edilizia Massimo Favaro e Giorgio Bellotti. Secondo Ancona, Roberto Miorelli non può scagionarsi affermando di essersi affidato al contenuto degli atti amministrativi dal momento che lui stesso è stato promotore di quegli atti. Per quanto riguarda Bresciani, Favaro e Bellotti, il giudice scrive che certamente essi non hanno avuto alcun ruolo attivo nell'elaborazione degli atti. Riguardo la posizione di Simoncelli, il giudice parla non di dolo ma di indiscutibile colpa che non trova scusante in positivi atti precedenti. L'imputata era edotta del contenuto delle planimetrie e pur non potendo conoscere l'esatta dimensione della violazione, era evidente che si stesse violando una precisa prescrizione dell'articolo 75 del Piano Regolatore Generale.